126 unità per un territorio di 46 metri quadri sul quale insiste una popolazione di quasi 150.000 abitanti distribuiti in sette comuni. Sono i numeri della compagnia carabinieri di Caivano attiva da oggi come annunciato dal ministro dell'interno Luciana Lamorgese rispondendo alle istanze di sicurezza invocate dai cittadini dell'area nord della provincia di Napoli, territorio caratterizzato da una densità abitativa elevata e da una criminalità comune organizzata particolarmente aggressiva. La sede della neonata compagnia carabinieri di Caivano è quella della storica tenenza di via Frattalunga ripensata per accogliere nuovi uffici, un nucleo operativo in radiomobili e una centrale operativa che garantiranno un incremento dei servizi di controllo del territorio. I carabinieri incrementeranno dunque la presenza costante rendendo un esercizio efficiente ai cittadini con una più incisiva azione nell'area nord-est della provincia di Napoli sia sul piano preventivo che su quello investigativo. Maggiore attenzione sarà rivolta all'area del Parco Verde e lungo le strade che costeggiano le aree residenziali più a rischio, come spiega il tenente colonnello Nicola De Tullio. Si tratta di una risposta concreta fortemente voluta dal ministero dell'interno e dal comando generale dell'arma per un territorio che è caratterizzato da forti esigenze di ordine e sicurezza pubblica e dalla presenza di una criminalità organizzata e comune fortemente strutturate. Il comando comprenderà sette comuni e avrà alle sue dipendenze quattro stazioni che serviranno questo territorio, un territorio che si estende per 46 km quadrati per un totale di 150.000 abitanti. Si tratta di una manovra importante, una qualificazione ulteriore dell'azione dell'arma sul territorio, un'azione che sarà rafforzata sia sul piano preventivo perché ci sarà un pronto intervento operativo sulle 24 ore e sia sul piano repressivo perché la compagnia è dotata di una sezione operativa, quindi di una nuova articolazione investigativa attiva sul territorio in via esclusiva. Si tratta di una risposta importante per un'area, quella a nord di Napoli, che è caratterizzata da problematiche importanti di presenza di criminalità organizzata e con particolare riferimento al Parco Verde, il rione più grande del comune di Caivano su cui insistono delle piazze di spaccio che sono state definite tra le più grandi d'Europa dai più recenti esiti investigativi. È un territorio su cui l'arma da sempre ha rivolto le sue attenzioni, ne sono testimonianza le operazioni di polizia giudiziaria condotte con la procura distrittuale di Napoli e con la procura di Napoli Nord, ma questa azione da oggi viene ulteriormente rafforzata.